cose diverse. Vedi cosa puoi fare. So che è una grossa richiesta, ma mi serve aiuto. Ma che sei, la figlia del boss o una fanciulla indifesa? Dammi gli indirizzi, pagami per il mio tempo e mi metto subito a indagare. Camilla, vieni! Mi raccomando, non fare facce strane. Guarda che veramente quello che viene male in foto sei tu di solito. Lo sapevo, voi del segno dei gemelli siete permalosi. Ah beh, chissà quali sorprese invece mi riserva il tuo disegno Leone. Vuoi sapere se tra voi c'è i fili? Adesso basta il tuo telefonino. Invia un sms con scritto segno di lei e segno di lui al 48278 e un consigliere astrale ti risponderà. Allora provo subito. Io sono Leone e tu gemelli, quindi invia un sms con scritto Leone gemelli al 48278. Dai, dai, che ti dice consigliere, che sono curiosissimo. Dice, siete complementari e sapete far ardere la passione. I vostri pianeti sono allineati per realizzare tutti i vostri progetti. Allora dici che io e te potremmo... Fermo, fermo la foto. E tu da casa hai capito? Per avere il consiglio giusto in amore invia un sms con scritto segno di lei e segno di lui al 48278. Gentile, eh? Italia 1 Solo un momento per ringraziare tutti i tutori dell'ordine che ci hanno aiutati nella ricerca di nostra figlia. Ho osservato lei e suo marito e voglio che sappia che so bene come si sta sentendo ora. Non ne ha la minima idea. Sì, invece. Lo so. Ha ucciso lei e sua figlia? Una nuova serie. Giù! In prima visione Italia 1. Dal mentalist. Da mercoledì alle 21 e 10. Onestamente non è così brutto come sembra. L'erosione dello smalto può essere favorita dal consumo di cibi acidi. Molti succhi di frutta, molta frutta, vino, aceto. L'erosione spesso non è visibile ad occhio nudo. È utile andare dal dentista per avere una sua valutazione. Lo smalto da Sensodent è un dentifricio che aiuta a proteggere i denti dall'erosione da acidi. Se non sei solo fumo, se fai sempre a modo tuo, se ami cambiare le regole, allora sai che è il momento di passare a Renault. Prova nuova Clio, l'unica con navigatore integrato, clima, ESP e radio MP3 a 8.950 euro. Su Sky inizia la prima stagione tutta in alta definizione. Scoprilo fino al 15 settembre con Summer Box HD. Tre mesi con tutto. Tutto Sky. A soli 49 euro. Chiama 02-7070. Ogni giorno i miei occhi affrontano le sfide della città. A me piace questa vita. Ai miei occhi invece no. Le nuove lenti One Day Acubiutrui aiutano a mantenere occhi sani e luminosi grazie a un'elevata ossigenazione e alla tecnologia HydraClear One che le rende molto lisce. Sento i miei occhi così sani e pieni di vita. Nuove One Day Acubiutrui chiedi un campionino maggio. Con la mia assicurazione auto risparmio più di 200 euro. Così non rinuncio a quello che mi piace. E con Dare Clio in due mesi sono gratis. A me Dare Clio l'ha consigliato un amico. E io l'ho consigliato alla mia fidanzata. E io al mio collega. E adesso siamo più di 500.000 in tutta Italia. L'abbiamo scelta perché hai clienti più soddisfatti. One, two, three, I've been living in the jungle. Aprofittane e vai subito su internet. Clicca, clicca! C'è di un preventivo all'848 80 11 80 o su directline.it. È tempo di grandi sfide. Su Premium si accendono i riflettori del grande calcio. Un solo obiettivo. Vincere! Si parte alla grande con il meglio della Serie A. Tutta la Champions League e in esclusiva assoluta la nuova Europa League. Oggi tutto questo può essere tuo insieme al cinema e alle serie TV a soli 19,90 euro al mese. Un'offerta così non ti capita più. Chiama subito l'199 303 404. TG Come è un sito internet ma da ora è anche una novità sul vostro telefonino. Volete le notizie, le informazioni, il miglior gossip, le migliori fotogallery, l'attualità? Potete navigare su tgcom.it e vedrete che spettacolo. C'è un luogo dove è possibile allenarsi comodamente in modo efficace e performante per aumentare la forza e aumentare la massa muscolare del tuo corpo. Casa tua con Mediashopping.it Scopri gli attrezzi utilizzati dai sportivi professionisti come me in linea con le tue esigenze. Le novità degli Stati Uniti e il comodissimo servizio di montaggio del prodotto acquistato. Mediashopping.it La sport è a casa tua. Nuovamente K. 8.250 euro. Italia 1. Visioni inquietanti Visioni premonitrici Visioni rivelatrici Mercoledì, una grande serata in prima visione. Italia 1 Alle 21.10 The Mentalist Alle 23 Omen, il presagio Prova l'accelerazione bruciante di High Speed, il roller coaster numero uno d'Europa. E non dimenticare, a Mirabilandia il giorno dopo. Entri gratis.